Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Allora, come potete vedere sto togliendo la vecchia jar car della Yankee Candle e tra poco andremo a mettere la nuova, così la andremo a provare. Stiamo parlando della Amber e Sandal Wood, ambra e legno di sandalo. Una profumazione estiva, ma la provo al primo impatto. Meraviglioso, sa veramente di legno. Ok, appendiamola, nel frattempo comincia a spandere il suo odore. Io vi dico la descrizione Yankee. La descrizione della Yankee dice Una spiaggia isolata vi accoglie con la sua sabbia riscaldata dal sole. Fumi rilassanti che evocano il legno trasportato dal mare, il cardamomo e l'ambra. Note di testa abbiamo pepe, fava tonka e cardamomo. Note di cuore abbiamo caramello, lavanda e ambra. E di in fondo abbiamo legno di cedro, sandalo, vaniglia e paciuli. Allora ragazzi, è macchina da poco, l'avete visto. Però vi posso dire che l'odore che espande è già quello del legno. Lo so, voi potete pensare, Luigi ti fa influenzare. Allora, voi sapete che io sono cresciuto in Sicilia. Io sono cresciuto sul mare, io l'estate li ho passate al mare. Comunque, l'odore del legno che si asciuga sulla spiaggia, che prende lo iodio dal mare, quell'odore caratteristico del legno che è stato bagnato dal mare, lo conosco benissimo. L'ho risentito in Grecia quando siamo andati sull'isolotto di Crissi, l'isola più assurda di tutta Europa. C'era questo isolotto proprio disabitato, dove si andava solo per il mare, ma poi era soltanto natura incontrastata e incontaminata. C'era solo questa pedale che ti portava alla spiaggia. E gli odori, li conosco benissimo. L'odore che si sente di più è il legno di sandalo. È quello più preponderante, è quello che si sente appena aprite la busta o appena accendete la giara, la candela. Ed è accompagnato molto bene all'odore dell'ambra che dà la sensazione di spiaggia, la sensazione di sabbia calda. È una fragranza estiva al 100% che rievoca i ricordi del mare nel vero senso della parola. Porta il mare nella vostra auto. È buonissima se vi piacciono gli odori, se vi piacciono le fragranze estive, questa fa caso vostro. Ripeto, si sente l'odore della sabbia, quella sensazione di sabbia calda grazie all'ambra, il legno che rievoca le fragranze, gli odori tipici del mare. Quindi sembra veramente di stare in questo isolotto. Io quando l'ho messa, appena l'ho respirata, appena ne ho sentito le fragranze, subito mi sono venuti alla mente due paesaggi. Quello dell'isola di Crissi, quando andai in vacanza in Grecia, è quello delle mie stati in gioventù, sia a Cimisi che a Capaci, dove c'è questa spiaggia grande e dove il legno veramente sta lì a prendere il calore dal sole e lo iodio del mare. Veramente buona, è anche un modo per avere il mare più vicino, per avere il suo odore più vicino. E per me questa è ottima, sia da casa che da macchina. Mi piace averla in macchina perché mi piace la sensazione di mare, di sole, di caldo, di spiaggia all'interno della macchina. Quindi ragazzi, Yankee Candle Amber e Sandalwood è un'ottima fragranza per profumare la vostra auto e far sì che sappia di estate, che sappia di mare. Così quando guidate vi rilassate perché si sa che il mare è rilassante. Ragazzi, io su questa Yankee non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi alla Zisa TV. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.